Una lettera dai toni durissimi, quella che il Presidente del Consiglio Comunale Luca Stella ha inviato ai consiglieri comunali. Ma riavvolgiamo il nastro. Pochi giorni fa abbiamo parlato della lettera che i consiglieri di opposizione hanno inviato al prefetto, lettera nella quale si chiede al prefetto di agire per convocare un consiglio comunale aperto che, come scrivono nella stessa, il Presidente del Consiglio Comunale non aveva convocato, nonostante fossero decorsi i tempi per la convocazione stessa. Sempre in questi giorni un'altra lettera, questa volta firmata dal Presidente Luca Stella e rivolta ai consiglieri comunali accusati di intervenire in Consiglio in maniera strumentale, soprattutto per quanto riguarda la polemica sul tempo dedicato alle interrogazioni, di offendere e fare affermazioni gratuite sull'attività della Giunta, di pronunciare parole offensive verso gli altri consiglieri comunali. Insomma, secondo Luca Stella sono stati utilizzati toni irragionevoli e ingiustificati. Per questo motivo il Presidente del Consiglio Comunale ha deciso di convocare i capigruppo e assumere in caso relative e conseguenti determinazioni. Intanto, di sicuro, come scrive nella lettera Stella, il Consiglio del 13 maggio salterà perché necessiterà tempo per giungere a un chiarimento tra le parti. Considerando la lettera al prefetto e le dure accuse del Presidente del Consiglio Comunale, possiamo considerare di trovarci di fronte a un vero e proprio terremoto istituzionale.